Anche quest'anno, per la quinta volta consecutiva a Capo Sele, andrà di scena la festa della musica europea che si inserisce nel circuito che raggruppa migliaia di città in tutta Europa. Band musicali, cori, singole esibizioni e gruppi di ballo inonderanno le strade della cittadina della Valle del Sele. Il tutto in una location di eccezione che è il Parco Fluviale, vicino alle sorgenti del fiume Sele, un'atmosfera magica ed affascinante dal crepuscolo all'alba. Si parte domani all'Ontra Park, nel cuore del Parco Fluviale, con più di 20 gruppi che si esibiranno su due palchi. Si continua sabato, sia all'Ontra Park che nel Parco delle Cantine, dove ci sarà la presenza di Vinicio Caposela e si chiude martedì 21 giugno in piazza 23 novembre, sempre a Capo Sele, con un palinzesto ricco di eventi ed in continua evoluzione. Ai microfoni di Telenostra, il sindaco di Capo Sele, Pasquale Farina. Io dico che questa è la festa della musica europea, perché facciamo parte del circuito europeo. Siamo orgogliosi di ospitare questa festa, è una festa per tutto Capo Sele, perché neanche a farlo apposta è un'occasione in cui tutto il Paese è unito, i giovani tutti quanti insieme, tutte le fazioni, tutte le idee politiche collaborano e insieme partecipano alla riuscita di questa festa, che è una festa importante, vedrà appunto sabato sera alle ore 21 a Caposela, come si dice in dialetto, quindi un'occasione unica in cui come amministrazione non potevamo che dare la cittadinanza onoraria a Vinicio. Non solo per questo, ma soprattutto per l'impegno che sta dando al nostro territorio, per l'impegno civile, vedi Formicoso, che ha dato e per quello che in tutte le occasioni sta dicendo sul nostro territorio, che non è più un territorio denominato o soprannominato del terremoto, ma adesso sta diventando un territorio di Vinicio Caposela, un territorio di festa, un territorio che è importante da visitare, un territorio importante per poter fare turismo. Noi siamo felicissimi di ospitare e di fare questa festa, si intravede e si capisce anche dalla mia espressione, i preparativi vanno a gonfie vele, abbiamo per nostra fortuna a Caposele e in tutto il fine un territorio importante, con delle location importanti come quella che dicevamo di questo parco, che è il Parco Saure, vicino al Campanile, che possiamo dire è l'emblema, rappresenta Caposele e di sera ha un aspetto suggestivo ed è emozionante, oserei dire. Quindi abbiamo la location adatta per un artista importante, per un artista che sta facendo nel nostro territorio un importante territorio a livello nazionale.